Doppio intervento degli uomini dal nucleo ittico venatorio della polizia provinciale di Bergamo. La prima richiesta è giunta alla sala operativa da parte di una ditta manifatturiera di Casnigo. Un esemplare maschio di Cervo si è trovato imprigionato all'interno dello stabilimento dopo essere caduto nel canale di aduzione della centrale idroelettrica della ditta. Sul posto è giunta una pattuglia che ha sedato l'esemplare di circa un quintale di peso per poi trasportarlo in Valle Vertova all'interno di un osi di protezione. Una volta risvegliatosi il Cervo è stato liberato. Felice esito anche per l'ungulato che si accasciava a pochi metri dalla recinzione del parco di una villa a costa di Mezzate. Immobilizzato il capriolo è stato trasportato sulle colline di Trescore Balneario in località Valtesse dove una volta risvegliato ha potuto riprendersi la libertà. Entrambi gli interventi si sono svolti in collaborazione con i volontari dell'Asle di Bergamo, responsabili della gestione dei farmaci impiegati, nonché con il supporto della vigilanza venatoria volontaria della provincia di Bergamo e di alcuni soci dell'ambito territoriale di caccia prealpino.